La New Basket Brindisi ed il gruppo Nicolaus hanno ufficializzato la propria partnership pluriennale con un'apposita conferenza stampa. E' stato infatti presentato questo Gival Tour, il nuovo title and global main sponsor della Stella del Sud. L'inizio di una nuova era Brindisi con il presidente Nando Marino che ha commentato con orgoglio un matrimonio avvenuto dopo un lungo corteggiamento tra le parti. Io la chiamerei stagione 24-25, atto 2. L'atto 1 è stata la presentazione del nuovo aleatore e oggi presentiamo la nuova partnership con il gruppo Valtour e sarà un'avventura meravigliosa perché hanno tanto tanto entusiasmo, sono legati al territorio e così come lo sono stati legati i signori Cassano, la famiglia Cassano che negli ultimi sette anni è stata con noi con un matrimonio molto fruttuoso per ambo le parti. Evidente è la comunione di intenti tra i massimi rappresentanti del gruppo Nicolaus ed il sodalizio cestistico Brindisino. Il vero punto d'incontro pare però sia stato quello legato alla valorizzazione del territorio. Lo stesso nome Valtour che è nato a metà degli anni Sessanta nasceva come Valorizzazioni Turistiche Valtour è proprio l'acronimo di Valorizzazioni Turistiche e nasceva appunto per sviluppare le migliori aree del mezzogiorno. Noi nel 2018 abbiamo comprato questo marchio, la nostra azienda nasce ad Ostuni e abbiamo cercato di riportare il valore della nostra impresa sul territorio pugliese innanzitutto ma soprattutto sul territorio del mezzogiorno d'Italia e sull'Italia. Quindi questo connubio con la società cestistica di Brindisi per noi è molto importante perché mette insieme una società importante con dei valori sportivi e dei valori sociali radicati sul territorio a una società invece del settore economico, in questo caso turistico, anch'essa legata a valori del territorio. Quindi è stato uno dei motivi che ci ha portato ad andare avanti su questo importante progetto.